I nostri due dischi, alcuni miei, uno di Guerrini, ma insomma non stiamo a dirvi i titoli, in ogni caso vengono dai due dischi del gruppo, il primo si intitolava Visionari e il secondo Ordine Agitato. Adesso vi facciamo ascoltare due brani nuovi, uno scritto da Mirko, si intitola Andy, l'altro scritto da Nico, si intitola Squirrels in Central Park. Io non parlo il dialetto di qui, hai notato che sto cercando di parlare il dialetto di qui e non è facile. Grazie. 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 Grazie.